Ciao, mi chiamo Rossana Vignola e lavoro al Servizio Ambiente, Territorio e Registro delle Unità Geografiche e Territoriali. Con i miei colleghi ci occupiamo della definizione delle nuove basi territoriali. Queste nascono con l'obiettivo di raccogliere e diffondere i dati censuari attraverso le sezioni di censimento. Con l'introduzione del censimento permanente ricorsa all'eocampionamento delle unità, le sezioni di censimento sono impiegate solo parzialmente e non in maniera esaustiva sull'interno territorio comunale. Le nuove basi territoriali sono utilizzate invece principalmente a scopo di diffusione. L'obiettivo dell'attività in corso è definire nuove basi territoriali più aderenti alle modifiche subite dal territorio finalizzate principalmente alla diffusione dei dati raccolti. Allo scopo di migliorare la qualità del disegno delle nuove sezioni è stato necessario intervenire con un editing mirato, suddividendo le sezioni stesse in porzioni denominate microzone, che sono state individuate applicando criteri di omogeneità e definendo una codifica speciale che le caratterizzasse. Si è cercato quindi di individuare sul territorio comunale luoghi di particolare interesse per gli abitanti, quali scuole, municipi, campi sportivi, che però risultando privi di popolazione residente non erano significativi in termini censuari e quindi possono essere utilizzati come strumento di controllo in fase di diffusione. Ad esempio, come si può vedere nell'immagine del poster, all'interno di una piccola frazione di territorio sono stati individuati un'area residenziale cui andranno riferiti i dati censuari al momento della diffusione, ma anche un cimitero, un impianto sportivo e un'autostrada, una strada principale, che non sono significativi in termini censuali. La rilevazione tuttora in atto richiede ai comuni la conferma o la modifica di quanto individuato sul territorio di propria competenza, sulla base della proposta realizzata dall'Istat. Questa proposta è stata elaborata con le stesse regole ed è omogenea in tutto il Paese. Il territorio nazionale è stato suddiviso in sette lotti, in modo da avere un numero simile di comuni per ciascun lotto. I tre lotti lavorati ad oggi rappresentano il 48,7% del territorio nazionale, per un totale di 3.876 comuni. Sul totale di 10 regioni lavorate siamo passati da circa 200.000 sezioni a più di 550.000 microzone. I comuni che finora sono stati coinvolti nella rilevazione ne hanno già confermati circa 300.000. Questo numero fornisce un'idea del dettaglio delle nuove basi territoriali ai fini di una conoscenza migliore del territorio e di una georeferenziazione più accurata dei dati censuari in fase di diffusione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima conferenza.